ciao a tutti amici di vanilla oggi vediamo una storia particolare quella di un naufrago su di un'isola completamente deserta così come deserta è l'isola in cui mi trovo ora santa marina in grecia nell'arcipelago delle inus l'isola è completamente deserta però c'è una chiesetta piccola al suo centro in cui durante il mese di luglio viene fatta la festa dell'isola e non so se ci siano degli animali che vivono qui non ha minima idea però c'è un greggio di caprela in fondo lo vedete però eh sì 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 sono le selvatiche che vivono qua si vede che hanno trovato che c'è una piccola fonte d'acqua che consente loro di vivere una mi sembra anche ferita questo poverino le starò spaventando a morte naturalmente chiaramente non voglio far loro del male eh sì una sembra ferita completamente selvaggia eh sì lei è ferita anche questo sembra un sentiero è sparita fra la vegetazione l'isola di santa marina è deserta ma qui c'è una piccola chiesetta che viene utilizzata durante la festa dell'isola quindi mi sembra circa metà luglio forse il 16 ma non vorrei dire una sciocchezza e per il resto non c'è nessun abitante umano abbiamo visto prima un greggio di capre che vivono quindi nell'isola lo stato completamente brado si vede immagino che ci sia una fonte d'acqua perché altrimenti non potrebbero assolutamente vivere gli abitanti ci tengono molto questa chiesa infatti vedete c'è la bandiera più comunque è ben dipinta è tenuto tutto molto bene però l'isola è completamente disabitata aveva un brutto carattere il marinaio scozzese alexander selkirk ma ciò non toglie che avesse ragione quando iniziò a discutere con il comandante della sua nave la singports insistendo perché si facessero delle riparazioni prima di lasciare le sicure acque del disabitato arcipelago juan fernandez al largo del cile per riprendere a navigare nell'oceano pacifico visto che l'arrogante tenente thomas streling appena 21enne non si sognava nemmeno di prendere in considerazione le sue richieste selkirk chiese di essere lasciato sull'isola più grande confidando nel fatto che altri suoi compagni si sarebbero uniti nel suo ammutinamento quando si rese conto che nessuno lo avrebbe seguito l'impulsivo marinaio implorò il comandante di riprenderlo a bordo streling invece fu felice di liberarsi dell'indisciplinato alexander e lo abbandonò sull'isola era il mese di ottobre del 1704 alexander selkirk aveva 28 anni la fermezza o crudeltà del comandante si trasformò nella fortuna del marinaio e non solo la letteratura deve molto a quell'uomo che dopo un iniziale smarrimento sopravvisse da solo sull'isola deserta inspirando al suo ritorno in gran bretagna uno dei più importanti romanzi sull'autosufficienza del coraggio robinson crusoe di daniel di foe selkirk era un esperto navigatore entrato a far parte della leggendaria marineria corsara britannica per allontanarsi dal suo villaggio lower largo dove non era proprio visto di buon occhio a causa del carattere irascibile e della frequente abitudine ad alzare un po troppo il gomito alexander era una testa calda dopo un primo viaggio al suo ritorno in scozia aveva picchiato violentemente il padre del fratello per uno scherzo innocente prima di essere ludicato dalle autorità ecclesiastiche selkirk riprese il mare unendosi alla spedizione di william damper famoso corsaro sui generis forse più portato per l'antropologia e il naturalismo che per la pirateria a settembre del 1703 le due navi di damper lasciarono l'irlanda dirette verso il sud america la vita reale sulle navi corsare era molto meno romantica di quanto ci si possa immaginare leggendo i libri di emilio salgari o guardando gli innumerevoli film sui pirati a partire da quelli con protagonista errol frinn fino agli ultimi con johnny depp le scorte alimentari andavano a ingrassare topi e scarafaggi mentre gli uomini dormivano su letti ammuffiti in condizioni igieniche disastrose che portavano malattie come tifo colera o dissenteria per non parlare dello scorbuto il morbo che ha causato più morti tra i marinai nel maggio del 1704 la sink port si distaccò dall'altra nave della spedizione e i corsari passarono l'estate ad assaltare galeoni spagnoli e villaggi costieri a settembre la nave si fermò nell'arcipelago per consentire agli uomini di riprendersi mangiando la carne fresca delle capre cacciate sull'isola dopo un mese di sosta con un rifornimento di capre gambe rierape stradling diede l'ordine di ripartire ma selkirk si rifiutò convinto che la nave malconcia non avrebbe resistito in mare aperto il comandante sbeffeggiò il marinaio che fu lasciato a terra con un moschetto una pistola polvere da sparo un'accetta un coltello i suoi strumenti di navigazione una pentola tabacco un po di formaggio una fiaschetta di rum e la sua bibbia tutto sommato selkirk non si preoccupò troppo del rifiuto del comandante di riprenderlo a bordo era convinto che nel giro di pochi giorni sarebbe passata una qualche nave amica a cui chiedere un passaggio purtroppo per lui aveva sbagliato previsione trascorsero quattro anni e quattro mesi prima di avvistare un'altra vela tutto ciò che si sa di quel lungo periodo sull'isola si deve a due fonti il corsaro woods rogers che salvò il marinaio e lo scrittore richard steele che intervistò selkirk nel 1711 durante i primi mesi di permanenza selkirk era talmente scoraggiato di aver pensato al suicidio come resistere da solo agli spaventosi versi notturni degli elefanti marini alle devastanti burrasche che spazzavano via gli alberi alle orde di topi che lo mordevano durante la notte tutto solmato il problema minore era quello del cibo il pesce era abbondante così come le capre selvatiche e le rape e altre erbe commestibili certo mancavano il sale e il pane poi selkirk si diede da fare fu in grado di accendere un fuoco a domesticare dei gatti per tenere lontano i topi correre veloce fra le rocce per catturare le capre pregava e cantava inni e iniziò anche a riflettere su se stesso e sulla sua vita precedente la solitudine gli aveva permesso di conoscersi meglio attraverso un percorso dove necessariamente aveva dovuto imparare ad apprezzare solo l'indispensabile durante la sua permanenza sull'isola di massa terra fu costretto non solo ad aspettare i corsari ma anche a fuggire i nemici spagnoli nei quattro anni di isolamento giunsero sull'isola due imbarcazioni nemiche la prima non lo disturbò né si accorse di lui ma la seconda grazie a un gruppo di uomini inviati sull'isola si accorse della sua presenza e lo braccò spietatamente allo scopo di torturarlo e giustiziarlo i marinai spagnoli giunsero ad urinare sopra l'albero sotto cui era nascosto alexander senza però riuscire a scorgere la sua presenza a un certo punto stanchi dell'infruttuosa caccia se ne andarono finalmente il 2 febbraio del 1709 selkirk avvistò il maestoso duke comandato da woods rogers quando fu ritrovato selkirk assomignava certamente un selvaggio vestiva pelli di capra e sentava parlare in maniera comprensibile fu tuttavia riconosciuto da william dempier che timonava proprio il duke selkirk venne a sapere che il suo abbandono sull'isola gli aveva salvato la vita la sink ports era affondata poco dopo aver lasciato l'arcipelago erano tutti morti tranne il cocciuto stradling e circa una dozzina di uomini finiti comunque nelle carceri spagnole selkirk fu arruolato nell'equipaggio del duke trascorse altri due anni a navigare al largo di perù ed ecuador diventando ricco grazie ai bottini depredati ai galeoni spagnoli tornò in inghilterra nell'ottobre del 1711 otto anni dopo essere partito negli anni seguenti selkirk divenne una celebrità grazie ai resoconti della sua avventura scritti da rogers e stele in breve tempo però il marinaio tornò alle sue vecchie abitudini vagava tra i pub di bristol e londra raccontando la sua storia in cambio di un pasto o di una pinta di birra stele che lo vide qualche mese dopo il loro primo incontro stentava a riconoscerlo non c'era più l'uomo allegro che aveva intervistato a una persona oppressa dal mondo che gli disse ora valgo 800 sterline ma non sarò mai così felice come quando non valeva un soldo in quel periodo daniel di foe un noto autore impegnato politicamente rimase affascinato dalla storia di selkirk che si trasformò nel suo capolavoro letterario la vita e le strane sorprendenti avventure di robinson crusoe di foe scrisse un romanzo d'avventura che al tempo stesso era un attacco alla società britannica un allegoria cristiana e un manifesto politico sociale il libro il primo best seller a basso costo della storia della letteratura considerato il primo vero romanzo inglese fu pubblicato nel 1719 quando selkirk aveva 43 anni un anno dopo il marinaio tornò alla sola vita che amava riprese il mare imbarcandosi su una nave da guerra hms wimots diretta in africa occidentale a caccia di pirati fu un viaggio maledetto durante il quale morirono dozzine di marinai a causa della febbre gialla e del tifo nel libro di bordo si sono registrati fino a tre o quattro dicessi al giorno anche quello di alexander selkirk il 13 dicembre del 1721 alle 8 di sera il suo corpo fu infine gettato in mare l'indeprima v riso i Grazie a tutti.